Rullo, direttore di Neatec. Napoli a Natale diventa super tecnologica e lo sarà fino all'Epifania con la sperimentazione del progetto Viaggiarte sul sito del Cimitero delle Fontanelle. Un progetto di ricerca e sviluppo che ha come obiettivo quello di trasformare la tradizionale visita a un sito culturale in un'esperienza di viaggio altamente immersiva e partecipativa. Ma ascoltiamo l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Napoli, Nino Daniele. Il patrimonio culturale va valorizzato, reso fruibile, comunicabile e godibile innanzitutto per i nostri cittadini perché il patrimonio culturale è la nostra più grande ricchezza, è il bene fondamentale e serve proprio a creare cittadinanza consapevole, convivenza civile qualificata, ordinata, generosa, ridando coscienza, identità, orgoglio a una comunità. Il Cimitero delle Fontanelle ha svolto moltissimo questa funzione, è oggi diventato uno dei volani turistici di Napoli più importante, ma è stato nel tempo un luogo di devozione e di religiosità. E quindi senza nulla togliere a questo mistero, a questo fascino e a questa suggestione, ora viene in qualche modo attraverso la ricerca e le nuove tecnologie, non solo reso meglio fruibile, spiegabile e visitabile per i nostri concittadini, ma può essere veicolato con questi nuovi strumenti dei media a livello globale con grande facilità. Alessandro Rullo, direttore di ricerca e sviluppo della Neatec, spiega le novità dell'iniziativa. Noi abbiamo pensato a fare diventare il viaggio che si faceva prima, la visita turistica, un viaggio in tre tappe. La prima tappa è un trailer di tipo cinematografico che viene fruito tramite un visore tridimensionale che abbiamo installato qui in un box presso la stazione di Piazza Municipio, in modo che le persone che prendono il treno e scendono dal treno possano vivere questa esperienza che è veramente bellissima, perché è un filmato a 360 gradi, molto bello da provare. Questo è il primo momento, che però ha lo scopo di poi avvicinare le persone al sito reale, in questo caso il sito delle Fontanelle, dove noi abbiamo installato delle piccole paline con delle locandine, che sfruttando un'app che noi abbiamo realizzato, che si scarica liberamente al sito Google Play, permette di, inquadrando queste paline, di vedere dei contenuti virtuali. E infine c'è il sito, quello più tradizionale, il portale, su cui ci sono tutte le informazioni sul sito. Quindi l'idea è che le persone facciano un viaggio in tre passi, un viaggio virtuale, un viaggio fisico, supportati dall'app, e un viaggio sul sito, condividendo magari le loro esperienze con altri.